Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due ragazzi di 18 e 17 anni arrestati giovedì per aver commesso violenza sessuale nei confronti di una sedicenne di Riccione la notte fra il 5 e il 6 agosto scorso. Questa mattina c'è stato l'interrogatorio di garanzia per il diciottenne fanese che non ha proferito parola davanti al giudice. Rimane dunque recluso nel penitenziario di Villa Fastici al pari del diciassettenne che invece ha fatto scena muta il giorno prima e che resta dunque nel carcere minorile di Bologna. I due ragazzi sono stati rintracciati e arrestati dai carabinieri dopo la denuncia della sedicenne scattata lo scorso agosto. Dagli ultimi approfondimenti di indagine è emerso che i tre si sarebbero conosciuti via Telegram accordandosi per una prestazione sessuale a pagamento. I due ragazzi sarebbero così partiti in auto da Pesaro ma una volta raggiunta la sedicenne quest'ultima si sarebbe tirata indietro. L'incontro allora sarebbe proseguito con il consumo di cannabinoidi e a quel punto la ragazza stordita sarebbe stata violentata e sarebbe stato sottratto il cellulare per cancellare ogni chat che riconducesse a loro. Ora sui due ragazzi pendono le accuse di violenza sessuale, lesioni e anche dispaccio di stupefacenti.